Ambra Angiolini ha un nuovo fidanzato? Non è chiaro se si possa parlare di coppia, di fidanzamento o di un inizio di conoscenza. Così come è possibile che stavolta il gossip abbia preso un abbaglio, non sarebbe né la prima né l'ultima volta. Fatto sta che i paparazzi non molleranno il giudice di Itzator 2022 fino a quando non uscirà allo scoperto con un nuovo compagno. D'altronde è da quando è finita con l'allenatore della Juventus Mazzallegri, che finisce sulle riviste di Cronaca Rosa un giorno sì e uno no. Stavolta non è sola, insieme a lei c'è un volto altrettanto noto e con cui lei ha anche la beccare Ambra in dolce compagnia è stato il settimanale Diva e Donna. Sul nuovo numero in edicola, hanno dedicato la copertina proprio a lei, e a quella che potrebbe essere una nuova coppia. Di chi si tratta? Il fortunato è Francesco Scianna, attore ben conosciuto e di recente visto nel film Il Filo Invisibile, disponibile su Netflix. Sulla copertina si legge. Dopo Allegri un nuovo uomo per Ambra. Notte di fuoco con Francesco Scianna. Ma sarà davvero sbagliato? Nelle foto in copertina i due si abbracciano e camminano insieme, fianco a fianco. Non si vedono baci tra Ambra e Scianna, almeno non negli scatti messi in copertina. Saranno stati solo molto attenti oppure si sono limitati in pubblicità. Tutto può essere, ma sempre meglio tenere a mente, che potrebbe trattarsi solo di una bella amicizia. Non giustificherebbe una notte di fuoco, di cui si parla nel servizio della rivista, ma le foto fianco a fianco e un'uscita a cena insieme. Ambra Angiolini e Francesco Scianna hanno lavorato insieme tra il 2015, e il 2016. Hanno recitato in uno spettacolo teatrale, diretto da Michele Placido, il cui nome era Tradimenti. Sarà scattata la scintilla a distanza di qualche anno. Non resta che attendere, come sempre, eventuali conferme o smentite. Oppure altre foto che provino che tra loro sia sbocciato l'amore. Tra l'altro non è la prima volta che Ambra viene beccata con un altro dopo Allegri, ma già in quella occasione non seguirono ulteriori scoop. Oggi si parla di lei per its fattore, e per la presunta occupazione di una casa.